Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è il nostro primo video di Fortnite sulla Nintendo Switch esclusiva. Allora, iniziamo subito. Direi di buttarci a Pantano Palpitante. Com'è che si chiama? Sì, Pantano Palpitante. Proprio così, perché c'ho voglia di buttarmi lì. Allora, io non sono stupito come gli altri, non mi vado a buttare su quella torre dove c'è la cassa, perché a parte che ci va troppa gente lì, vado in un posto un pochino meno affollato, dove ci va meno gente, ecco. Prendiamo questo. Ok. Ottimo. Aspetta. Aspetta. Qui ci viene una marea. Anche perché eravamo... A parte che eravamo... Il bus era... Ha iniziato a partire proprio qui. Ottimo. Ci prendiamo anche sto barilozzo. Quando è che dà questo qui? Ah, dieci, vabbè. Dai, dai. Ucciso. Ehi. Ehi, vieni. Please. Ok. Aspettate. No. Ok. Non mi ricordavo che a Pantano ci fosse tutta sta gente. E anche tanto agguerrita. Eh, vabbè, ma dov'è? Ma dove sono? Ti ho visto. Qui non c'è nessuno. Ma dove sono? E... andate. Una cosa. Ok. 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 Scusate ragazzi ma Ehi Tu Batte Batte via Ma era sto qui che c'è tutto sto macello E quell'altro? Pensavo di non essersi fatto Ah che nebbo Allora Aspettate un attimo Ok Ragazzi io non sono proprio un pro gamer Mi sono allenato un po' Però Non sono niente di che Appunto non so neanche editare Dai che ce la fai Ok Ricarichiamoci Ottimo Penserete che sono bravissimo ma Attacco 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 aereo L'attacco aereo funziona sempre Che buon loot che c'aveva No Ridammi la mia mitraglietta Ok mi ha tolto tutto lo scudo Grazie mille comunque Signore Signore E noi ci rifulliamo Utilizzo anche il medipack Così Abbiamo poco materiale Ok Ok Mi sembra No No Andiamo qui Ok Ok Io Io andrei a fullarmi qui dentro Vabbè Vabbè ci rimango un po' 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 No Vabbè ci rimango un po' Non sono, non sono un fenomeno. Ah. Dì a papà, dì a papà, dì a papà. Ok, allora. Allora, vediamo se troviamo qualcuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma proprio nessuno. Nessuno. Eh, hanno distrutto un albero. Io direi di scendere. Andiamo. Andiamo. Uh. Nab. Ah, non c'è nessuno. Voi. Voi. Hai. 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 Allora facciamo che mi prendo il cecchino Ok Ragazzi ho giocato qualche partita e mi sono anche allenato un pochino a buildare Perché io non ho mai giocato a Fortnite da Switch Ho fatto proprio qualche partita per vedere, ho fatto qualche creativa Per allenarmi Allora siamo a 5 kill e 6 rimasti Da che forse ce la portiamo a casa Dai siamo ancora in... Dai dov'è? Ah è qui sotto No non lo trovo Hello? Non ci voglio che... Mi hai asciutato con un colpo Vabbè dai ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video Lasciate like se vi è piaciuto E... Ciao a tutti